Come vivremmo se dovessimo proibire tutto ciò che buttiamo via irresponsabilmente? Dovremmo vivere senza cartone, plastica, vetro, alluminio, auto, mascherine, oggetti elettronici? Non sarebbe meglio optare per una soluzione reale. Il primo passo per elaborare un'efficiente e reale strategia è quello di conoscere il problema. Per esempio, l'inquinamento dei rifiuti solidi nel mare proviene da due fonti, quella terrestre e quella marina. La maggior parte proviene dal mare, sono le reti e i materiali da pesca che vengono abbandonati. Per quanto riguarda la fonte terrestre, la maggior parte proviene dalle urbanizzazioni che si trovano nel raggio di 50 km dalla costa e dai fiumi che sfociano nel mare. I colpevoli a livello mondiale hanno un nome, sono Cina, Indonesia, Filippina, Sri Lanka, Vietnam, Thailandia, Egitto, Malaysia, Nigeria e Bangladesh. Sono i 10 paesi che apportano il 70% dei rifiuti solidi che inquinano gli oceani. Tutti loro hanno qualcosa in comune, ma non si tratta dell'utilizzo della plastica, perché di fatto sono quelli che la utilizzano di meno. Si tratta dell'inefficienza della gestione dei loro rifiuti. Ora sai qual è il primo step e presto parleremo anche dei successivi.